Quante volte al giorno sentiamo parlare di innovazione, nuove tecnologie e futuro? Tutto deve essere smart, veloce, performante. E se stessimo perdendo di vista il vero obiettivo? Next to me è il podcast di Mitsubishi Electric filiale italiana, condotto da Pepe Moder, che parla degli impatti positivi dell'innovazione sulla vita di persone, comunità e imprese. Storie di imprese e di persone che fanno innovazione intorno a un fulcro comune, l'essere umano. Cerca Next to me sulla tua app preferita. Non è mai facile. Un ritorno non è impresa da niente. Ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te. Capire il vento, la ragione, il momento. Spogliarsi di ogni certezza, inseguire un canto. Anche se per gli altri sarà follia. Ad occhi chiusi io riconoscerei la mia prima volta. Tra quei sorrisi e quella sincerità il mondo era mio. Quella minestra calda, quanto mi manca. Essere il primo a tutti i costi davvero stanca. Voglio respirare poesia, la mia. Ancora qui per dire di sì ai miei sentimenti. Con l'onestà di chi non ha mai barato con te. Abbracciami adesso, perché è tempo di noi. Io non ti ho scordato, non l'ho fatto mai. Una domenica diversa da qui, talmente lontana. Era un appello che forse per noi non tornerà più. I miei pensieri in volo, dalla finestra, che diventava un pianeta quella mia stanza. Se il coraggio un premio non è, cos'è ancora qui? Per dire di sì, riaccendere i sensi, affinché tu non mi veda più diverso da te. Nessuna dogana tra noi, né ieri né mai. Ecco il mio indirizzo, torna quando vuoi. Lascia la porta spalancata alla vita, anche se l'hanno umiliata, brutalizzata. C'è sempre qualcosa di me, in ogni latitudine c'è qualcosa per cui ritornerei da te, da te, ancora da te.